E' questo che fa le palline blu, no? infatti ho spento frappa perché tanto sono morto questo che fa le palline blu scappa, scappa me voilà non dire parolazze che sto registrando ecco, ho preso il bazzucone, dov'è? dov'è? eh madonna vai che ti miro palline ovunque qua ma sta arrivando l'artiglieria aliena? una zona è caduta per terra però mi stemmia pure adesso devo aver riempito l'hard disk ormai l'ho beccato? no! oppure l'ho beccato? non li ho fatto niente dai che va! la zona è ancora vivo? eh? come no? eccolo lì? che fa fuoco e fiamme il nasone è andato che senso? sto cominciando a comprare il mitraglione però sto cominciando a comprare il mitraglione però ehi la giovane dove fai? rispetto per gli anziani ehi la giovane morto ma siamo tutti morti? e stanno a magna tutto vabbè cominciamo con una bombetta resisti! K bomba resisti oh no sono caduto giù e ho solo la pistolina ti vedo io aspetta ti vengo ad aiutare se no muoio prima infatti e dai e dai nooo sbagliato bomba a mano taglie si si col coltello non posso essere morto così? oh eccola la piovra no però manca poco neanche il tempo di ammazzare la piovra nooo piovra più cazzuto non so se sia una buona cosa ma si può giocare in più di 4 qui? non so se sia una buona cosa no avessere la piovra